Valeria Linovi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta qui nel posto delle parole per condividere in questa conversazione il suo nuovo libro intitolato Come un filo d'erba ai decumani. E questo è un romanzo pubblicato dalla casa editrice pugliese Manni e Valeria Linovi è qui per farci entrare, farci passeggiare, farci passeggiare dentro Napoli, scoprire luoghi e attraverso i luoghi scoprire le persone. Leggo in quarta di copertina che Valeria Linovi è nata a Napoli dove vive e lavora, giornalista pubblicista, si occupa di popolazione fragile, ambiente di arte, autrice anche di libri per bambini, ha vinto diversi premi dedicati al mondo dell'infanzia e della scuola con l'editore Manni, ha pubblicato nel 2004 il romanzo d'esordio Nevespina dedicato agli ultimi ospiti di un ex manicomio nel napoletano. Valeria Linovi, incominciamo la nostra passeggiata, ci mettiamo in cammino per così dire nella sua storia, ma per metterci in cammino c'è sempre un posto per cominciare e dove ci troviamo? Ci troviamo davanti ad un palazzo che è fatto nell'immagine di copertina, che cosa ci dice queste immagini, che cosa ci racconta Valeria Linovi? Questa è una scorcio della pietra santa, una basilica paleocristiana che ha avuto molti rimaneggiamenti, che si trova appunto nel decumano maggiore, che è stato il punto di partenza per me di questa storia, in effetti anche proprio nella realtà, nel senso che io andai in questa basilica per seguire un concerto e non lo so, insomma fui presa dalla magia del luogo, poi la musica, le suggestioni, insomma anche il mio momento sicuramente, il mio momento così esistenziale e fui catturata dal luogo e dalla situazione, è come se fossi entrata in contatto con la storia di questa Chiara e Daniela, sono entrate in contatto e poi abbiamo cominciato appunto in qualche modo a conoscerci, ci siamo messe in cammino lungo le strade di Napoli, vicoli di Napoli e io mi sono messa in ascolto così della sua storia, insomma ho provato ad ascoltarla. Ha provato ad ascoltarla e solamente ascoltando si riesce a comprendere una storia e questa è una storia, una delicata storia d'amore, ha già accennato Valeria Rinovi a Chiara e a Daniela il musicista che andremo a conoscere anche se noi qui nel posto delle parole diciamo sempre che delle storie andiamo a stare sulla porta, non sulla soglia, senza rivelare troppo. Il dolore inebria la vita, ed è bene o male? Penso bene. Allora caro, viva il dolore che mi lega a te indissolubilmente. Ora questa frase, questo dialogo che è in esergo a questo romanzo ci porta a vivere il dolore in una maniera inebriante ma anche il dolore in una maniera tormentosa, no? E il dolore lega indissolubilmente. E qui entriamo da una prospettiva molto singolare, nello sguardo di Chiara e nello sguardo di Daniela. Sì, sono due personaggi che in maniera diversa hanno molto sofferto. Di Chiara la seguiamo sin dall'inizio. Ha avuto una vita complessa, insomma dopo questo incontro in gioventù. Lei frequenta l'università e conosce il musicista Daniele che si mantiene agli studi del conservatorio perché vuole diventare pianista, si mantiene lavorando in un bar praticamente. Diciamo che la chiave di questa storia parte dal dolore, è il dolore, ma poi è anche il punto in cui le due persone, queste due persone riescono ad incontrarsi e a trasformare questo dolore in una conoscenza profonda dell'altro, in una comprensione, in un camminare appunto insieme. Si sono conosciuti da giovanissimi, sono conosciuti studenti, al terzo anno di lettere, no? E quindi nella conoscenza di questi ragazzi sboccia l'amore, però è un romanzo fortemente musicale, lei diceva prima della conoscenza e del rapporto di queste due persone, ma il rapporto è dato anche e soprattutto proprio dall'intesa musicale, no? Ricordo la prima volta che Daniela ha dato appuntamento, straordinario romanticismo, alla sua ragazza, a Chiara per farle ascoltare la primavera di Beethoven, ecco, e da lì, ed è stato anche un ottimo pretesto per andare a chiudere per un attimo, per qualche minuto il libro e ascoltare per l'appunto questa straordinaria esecuzione. Ecco, quanto la musica attraversa queste due persone e li mette in rapporto, anche con la parola ricordo, perché qui c'è una storia di separazione in sostanza. Sì, la musica è fondamentale percorre tutto il romanzo, tutta la storia e io mentre scrivevo ero immersa in queste musiche, sempre quando scrivo sono immersa nelle musiche, tra l'altro devo dire, io non sono affatto un'intenditrice, una conoscitrice, sono però una persona che niente, ho bisogno per scrivere di essere immessa nella musica. E quindi qual'era la domanda? Che la musica è veramente una virgola nell'esistenza di Chiara e di Daniel, è questa virgola di Lega, questo romanzo ha un'apertura che vorrei condividere con i nostri ascoltatori, così comincia, è tornato nel mio autunno, la schiena magra, le gambe lunghe, è tornato, ha in tasca il filo dell'arcobaleno, mi feriva la luce, mi feriva il rumore, mi feriva la sprezza del silenzio e lui è tornato con la sua musica antica, i suoi balli leggeri e propiziatori, piccoli gesti gentili, sorriso un po' amaro, zaino in spalla come un ragazzo. E così comincia con le gambe che tremano, le gambe a un certo punto dice, lei scrive, pronte allo scatto perché i pugni in tasca non sa che cosa fare, viviamo questa, una parte questa indecisione, questa solitudine, ma questo slancio amoroso che lei vorrebbe riprendere con quest'uomo e scattare e ricominciare o forse continuare quello che non si era mai spezzato in verità. Sì, per lei non si era mai spezzato, di lui non sappiamo, lei lo incontra, lo rivede per caso più di vent'anni dopo, quindi per lei è uno shock, nel senso che naturalmente vorrebbe, l'istinto la porterebbe a correre verso di lui, ad abbracciarlo, però lei ha anche molta paura di non essere riconosciuta, oppure che lui la vedrà troppo vecchia, la vedrà troppo diversa da come l'ha lasciata quando certamente era soltanto una studentessa universitaria, quindi c'è anche questo aspetto, eppure lui la riconosce e anzi le va incontro e lei però fugge perché l'emozione è sopraffatta, insomma dall'emozione le scappa. Ho provato a rincorrerti, dico questa frase che straendo dal libro senza spiegarla perché non svegliamo ovviamente come va questa storia, ma questa frase ho provato a rincorrerti è una frase nodale di questa storia, ma nella nostra passeggiata dentro Napoli, Valeria di Alinove, qualche ascoltatore può anche dire e chiedersi, ma che saranno mai i decumani? I decumani sono queste antiche vie, la città era come una scacchiera con queste linee rette e che noi ritroviamo, Spaccanapoli per esempio è il decumano inferiore, quindi tuttavia Benedetto Croce, Sandaggio degli Ibrai, qui invece della Pietra Santa è il decumano maggiore e poi naturalmente ci sono tantissimi vicoli, vicoletti, come dire, proprio delle piccole arteriole diciamo così, che sono tantissime e che Chiara percorre e ripercorre per intracciare proprio i segni della sua storia con Daniele, quindi noi entriamo con lei nei decumani e ci inabbissiamo nella realtà dei decumani che è fatta di musica, di odori, di tante sensazioni, di personaggi che si incontrano, che tuttora diciamo noi possiamo incontrare in questa città insomma incredibile, caotica, ma anche molto caotica, ma anche magica. Sarà anche caotica la città di Napoli, Valeria Rinovi però, nelle immagini che lei ci presenta in questo libro, Immagina Colori, dà il senso veramente di una tranquillità estrema, vediamo poca gente e invece Napoli forse, non dico che è il contrario, ma Napoli è anche questo, come lei ha ritratto in queste immagini. Sì, sì, questa è anche la Napoli che io ho vissuto veramente in un periodo particolare della mia vita quando ho voluto raccontare, ho iniziato a raccontare la storia di Chiara, quindi in un certo senso quello che io descrivo è anche corrispondente alla realtà, poi certo le cose sono sempre in movimento, questa è una città eternamente in movimento, a volte scoppia, a volte di cose, di persone, di musiche e così via e a volte invece, specialmente per chi la conosce e chi ci vive naturalmente, che va in orari particolari, in luoghi particolari, allora può ricevere dei doni unici, sia dalla luce, sia da certi silenzi, oppure da voci sommesse, niente di prepotente, di troppo invadente. Ma è proprio vero che l'amore è la chiave, è la chiave di tutto? Secondo me sì, l'amore è proprio la chiave di tutto, perché l'amore appunto è quello che può tradurre il dolore invece in comunicazione, in connessione tra le persone, in esperienze, è un'esperienza dolorosa, diciamo vissuta e poi ci può portare poi all'amore o l'amore ci unisce e supera le ferite, perciò io scrivo il dolore ed è bene o male faccio questa domanda che inebria la vita, quindi deve essere qualcosa di inebriante, si immagina di bello, ma è bene o è male? Naturalmente poi ognuno può dare la sua risposta, però io credo che l'amore sia la chiave di comprensione dell'altro e che ci mette in contatto più profondo con l'altro, superando qualsiasi ferita. Superando qualsiasi ferita e superando anche il tempo, perché la parola tempo in questo romanzo che è di circa 90 pagine è una parola importante, perché Chiara e Daniel non si vedono da tanto e ci sono delle domande che sono importanti, domande che forse ci potremmo fare noi al posto di Chiara e di Daniel. Per esempio, Chiara si fa questa domanda, ma lui, come mi vedrà lui dopo tutto questo tempo? Non è semplicemente una domanda, se vogliamo, estetica, no? Certo. Però va dentro la vita, lo sguardo, no? Perché, certo, si cambia, il corpo si trasforma, lo sguardo anche, la vita ci trasforma e noi la trasformiamo. Ma questa domanda, ma lui, come mi fietrà dopo tutto questo tempo? È una domanda fondamentale. Sì, Chiara, per questo, insomma, fugge, perché lei lo vede 20 anni dopo, ma esattamente come allora. Lei lo vede esattamente come allora. Perciò lei all'inizio dice, è tornato nel mio autunno, quindi lei sa che sta vivendo il suo autunno, è consapevole di questo, ma lo sguardo carico di amore ancora per Daniel glielo mostra così com'era, le gambe lunghe, la schiena magra, lo zaino messo solo su una spalla come appunto fanno i ragazzi. Quindi per lei diciamo che il tempo non è passato. È passato nel dolore, nell'esperienza, come dire, nella realtà quella concreta, quella della quotidiana, ma nella realtà altrettanto reale, diciamo, e profonda del suo cuore, lui è rimasto identico a com'era. Lui è rimasto identico com'era, anche se lei è ormai diventata una donna matura, anche se dall'aspetto piacevole, i capelli sale pepe, con prevalenza di sale, come scrive e come scrive e come lei si vede rispecchiata, no? In uno specchio. Sì. La sorpresa si realizza quando si partecipa alla presentazione di un libro e si incontra tanta bella gente. Valeria Rinovi, che sorpresa ha avuto dal pubblico quando lei raccontava e racconta tuttora questo romanzo? Grandissime sorprese. Innanzitutto la gioia negli occhi delle persone che hanno letto questa storia. in particolare, diciamo, le donne, ovviamente sempre accade, si identificano con la protagonista e rintracciano in lei tante cose, al di là dell'età, che può essere giovane, può essere età adulta o più avanti negli anni, ma c'è questo senso di speranza, di magia, qualcosa può cambiare, tu non te lo aspetti, ma qualcosa può sempre cambiare. E questo è un messaggio che io do spesso, non è che lo do come messaggio, ma è un contenuto che fa parte di me, è una cosa che fa parte di me, perché infatti anche nel romanzo Nevespina, così lì proprio di tanto dolore, di tante difficoltà, eccetera, però anche lì le cose possono sempre cambiare e quindi il dolore si può trasformare in gioia. Allora la sorpresa che io ho avuto è stata la gioia di queste persone, la speranza che ho riacceso in queste persone, il piacere naturalmente di una lettura anche molto agevole, tutti mi hanno confermato che è una lettura semplice, è una lettura che si può fare, anzi che ti porta, non vedi l'ora di sapere come va questa storia di Chiara e Daniele, quindi questo naturalmente mi ha riempito di gioia, è il nutrimento di cui ho bisogno per continuare a scrivere, anzi addirittura sono state diverse persone che mi hanno chiesto, ma tu devi continuare perché ci devi dire non solo di Chiara e Daniele, ma adesso ci devi raccontare, mi hanno citato dei personaggi che sono nel Giovanni e Sonia, ma come va questa storia? E insomma è altri personaggi. E altri bei personaggi, quello di Giovanni per esempio, ma lei poco fa, Valeria Rinovi parlava di nutrimenti, mi scusi se io la metto veramente su un livello bassissimo, mi scuso, però prima parlavamo di musica a livello molto alto, poi però è arrivato a un certo punto, questo libro mi ha fatto nascere un desiderio, un bisogno di una cosa che non avevo mai più visto, perché mi sono imbattuto in questa frase, avrei voluto correre a comprarti cioccolatini alla menta, ora a cosa servono le letture? Anche a dire, benissimo, mi scrivo su un foglio e vado a comprare appena posso cioccolatini alla menta, cosa che ho fatto, quindi grazie a questo romanzo ho riscoperto la bontà di questi cioccolatini, a lei piacciono i cioccolatini alla menta, Valeria? Moltissimo, moltissimo. Come un filo d'erba ai decumani, il romanzo che abbiamo attraversato, il romanzo pubblicato dall'editore Manni, ma prima di salutarci, Valeria Rinovi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia è della islandese Ava, non so se lo pronuncio neanche bene, Olaf Dottir, La vita degli animali, qualcosa di incredibile, cioè siamo non anni luce, diciamo di lontani dalla città di Napoli, perché siamo in Islanda, quindi con i suoi profondi silenzi, con la luce da catturare, queste atmosfere cristalline e una cosa che mi colpisce più di tutto, che mi ha colpito in questo romanzo è che nel 2013 l'Islanda ha fatto un referendum per decidere la parola, per dire la parola più bella secondo il popolo islandese della lingua, loro e qual è eostetrica, dare la luce, dare alla luce, quindi l'importanza della luce in questo luogo, è una cosa che veramente mi ha fatto piangere, quindi io ho cominciato con Hotel Silence di questa scrittrice, che mi è stato regalato per caso da amici islandesi, non l'ho più abbandonata e quindi nei contrasti invece di Napoli, di luce talvolta anche molto forte, colori, suoni, rumori, caos, eccetera, io ogni tanto sento il bisogno di immergermi invece in questo cristallo terzo e puro di questa grandissima scrittrice. Ava Olafsdottir, tra l'altro mi scuso se parlo ancora di me, compio quest'atto di vanità, Valeria Rinovi, io ho scoperto questa scrittrice grazie al romanzo di una decina d'anni fa, il romanzo che è il rosso vivo del rabarbaro, ora ricordo che dopo aver letto questo libro regalai questo libro insieme con un mazzo di rabarbaro, perché era la stagione verso Pasqua e quindi è stata un'occasione molto bella per condividere la scrittura veramente straordinaria, di una luce cristallina e chi non l'ha ancora conosciuta la può leggere sicuramente perché sarà affascinato. Grazie davvero Valeria Rinovi e buona giornata. Grazie a lei e grazie a tutto lo staff.